oggi prepariamo la zucca in modo facilissimo e diverso dal solito per prima cosa togli la buccia alla zucca ideale è utilizzare zucche della varietà violina oppure butternut dalle quali nella parte vicino al picciolo puoi ricavare delle fette perfettamente rotonde una volta tolta la buccia taglia la zucca a fettine sottilissime utilizzando la mandolina presta attenzione a non tagliarti perché la polpa della zucca è più consistente di quella delle patate e quindi dovrai esercitare un po di forza sulla lama trasferisci le fettine di zucca in una ciotola e aggiungi olio sale pepe aglio in polvere e un po di rosmarino secco mescola il tutto con le mani per distribuire bene il condimento trasferisci le fettine di zucca nella friggitrice ad aria e cuocile per circa 10 15 minuti a 200 gradi a metà cottura gira le fettine di zucca in modo da garantire una cottura più uniforme terminata la cottura trasferisci le sfoglie di di zucca nei piatti e buon appetito